Ogni schieramenti progettano il paese in un modo comune, individuando una persona che incarni questa visione oppure lo stallo va sbloccato con una proposta che venga dalla struttura costituzionale dello Stato e non dai partiti. L'exit strategie di Michele Emiliano, raccontata ai giornalisti nelle ore di transizione per il Totocolle. Il governatore pugliese esclude che la fumata bianca possa concretizzarsi con il sistema delle rose proposte dalle coalizioni e tratteggia una sorta di soccorso esterno ai partiti con l'aiuto di comuni e regioni, avendo, questi ultimi, organismi come l'Anci e la stessa conferenza delle regioni dove la divisione tra i partiti spiega e composta. Uno schema che aveva evocato già a margine del primo giro di Valseri in cabina, evocando proprio l'approccio delle regioni come soluzioni al muro contro un muro delle formazioni in campo. Per ora si procede di scheda bianca in scheda bianca, con un gran finale che potrebbe non concretizzarsi prima della fine della settimana. Al ritorno nel capoluogo dovrà preoccuparsi del rimpasto nell'esecutivo mai chiuso, nonostante gli slot che restano vacanti per sanità e turismo. È uno schema complessivo che vedrebbe in Pol tanto Roccopalese quanto Gianfranco Lopane. Nell'escorsione il canosino Francesco Ventola ha chiesto anche la convocazione dello stesso Emiliano in sesta commissione per riferire sul braccio di ferro interno alla Puglia Film Commission.